Come da promesso oggi sono iniziati i lavori qui nel quartiere dell'Aia Potenza. Stiamo iniziando proprio qui dalla Peneta, dove già da anni ha avuto degli interventi mirati sulla bonifica. Era una Peneta ormai piena di sporcizia, grazie all'intervento della Dessociazione Disoccupati Maden Sisili, con il responsabile Matteo Polessi. Siamo eccoadiuvati anche dagli operai del Comune nel nome del signor Godina e del signor Fasulo. Stiamo cercando di dare lustro e dignità a questo quartiere come abbiamo fatto sempre in questi anni. Già iniziamo subito con la cura del verde pubblico, dalla potatura alla discerbatura. Dico semplicemente che la politica deve essere comunque presente in tutti i territori. Noi già un mese fa abbiamo fatto gli interventi mirati, sempre con questa associazione, e sempre in collaborazione con gli operai nella borgata costiera. Adesso siamo qui nel quartiere di Potenza, dove tutto ciò comunque ne interessa veramente di dare un significato perché le periferie sono importanti. Proprio questa è una pianeta importante, è una pianeta che rappresenta un polmone verde della nostra città e ci sembrava opportuno ripristinarla come abbiamo fatto già negli anni scorsi. Come vede non ci siamo dimenticati di questi quartieri. Naturalmente chiedo alla cittadinanza tutta mazzarese, dipende sicura comunque tutto il territorio e dobbiamo cambiare approccio e modo di pensare sulla cura del verde, pensando che il territorio è nostro, non è solo del Comune di Mazzar del Vallo. Quindi sensibilizziamo la cittadinanza a mantenere anche la città pulita. Finendo questo quartiere sicuramente lavoreremo nell'interesse di riqualificare un'altra zona che è quella di Mazzarra 2, che è anche un'altra periferia ultimamente un pochettino abbandonata. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci sta permettendo tutto ciò. Proprio ieri ho avuto un incontro con il vice sindaco Servano Bonanno, sono venuto qui a sopralluogo e stiamo vedendo che siamo intervenuti nell'immediato anche perché questo è un quartiere che merita tanto rispetto. Io sono Matteo Polessi dell'associazione Maden City e grazie al sindaco di Mazzarra del Vallo, Nicolò Cristaldi, che ci ha dato l'opportunità a noi, prima a me che tutta la mia squadra, a quella dei ragazzi che siamo disoccupati mazzaresi, abbiamo iniziato con un'associazione a andare a despugliare gli alberi, pulire le strade e abbiamo lavorato anche nella spiaggia a Arrassella, sia la spiaggia di Tonnerelle, sia la spiaggia di Lungomare Mazzini e sia la spiaggia di San Vito, tutta la cura del verde di Mazzarra e le strade, parecchie strade che c'è molto 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 sporcizia anche di prendere tutte le decisioni e l'abbiamo avuto grazie al giovane Trafasulo che ci dirige con l'equipe del comune e grazie a loro devo dire sempre che noi andiamo sempre avanti nei migliori dei modi e cerchiamo di tenere sempre pulita nei migliori dei modi la città di Mazzarra del Vallo.